3, 2, 1, si parte! Oggi cercherò di allenarmi il possibile sfruttando la domenica e anche il divertimento con gli amici. Vado al mare in bici e si ritorna in bici, poi qualcosa faccio là. Buona domenica! Abbiamo finito i 5 km di corsa. Fa abbastanza caldo. E adesso si che è domenica. Si riparte intorno a casa in bici. Sì, perfetto. Così faccio il rifornimento prima di andare a casa. Dunque, 80 km in bici. Andate ritorno dal mare. 5 km a piedi, 1,5 di nuoto. Direi che adesso una coca colina me la posso permettere. E per oggi la giornata è finita. Ciao, al prossimo video. Ciao! Sai giù! Ciao! Ciao! Ciao!